Ci vorranno quattro anni almeno per vedere pronti tutti e tre gli hotel che il gruppo VNE si appresta a realizzare in Centro Storica Seravezza. A fare il punto dopo l'annuncio dell'operazione da 10 milioni di euro di qualche giorno fa è stato lo stesso fondatore della società di Corceta, Nino Verona, ospite in studio a per contro insieme al sindaco Lorenzo Alessandrini. Il BNB di Piazza Carducci, che oltre alle tre suite ospiterà anche un pub aperto al pubblico nel seminterrato, sarà il primo ad essere finito. Per il Palazzo Raffaelli, invece, si partirà tra pochi mesi. Pensiamo e speriamo di iniziare nel giro di qualche mese e terminarli nel giro, diciamo, di un anno. In un anno penserei di arrivare alla conclusione dei lavori. Tempi molto più lunghi, invece, per l'ex collegio maschile del Sacro Cuore all'ingresso del paese, sarà dotato anche di un parco botanico sul fiume e di parcheggi, ma ci vorranno almeno quattro anni. Può nascerci e ci nascerà un qualcosa di veramente bello. Quindi un parco hotel con una trentina di camere. Tutto questo è di livello abbastanza alto, con spa, una piscina. Il progetto è già nella mente e qualcosa è già anche sulla carta. La svolta turistica che questo investimento porterà è stata accolta con entusiasmo dai serravezzini. Molti però chiedono al Comune che risolva l'eterno problema dei parcheggi. Noi abbiamo un'idea fissa che stiamo condividendo col genere civile, ma è difficile perché attualmente la normativa regionale andrebbe un po' rimodellata. C'è la parte vicina al Medicio che c'è tutta una parte legata vicina alla Passerella che dovrebbe vedere un ampliamento dell'impalcato per consentire di mettere qualche altra decina di automobili e ci stiamo lavorando col genere civile. Poi ci sono le cavette abbandonate dietro al Medicio, c'è la cavetta abbandonata da Ceraciola, c'è tutta una serie di piccole e grandi possibilità, ma le stiamo percorrendo tutte. Ovviamente questa cosa, come ho detto prima, ci impegna anche di più. Grazie a tutti.